Buongiorno, sono Marco Peano, mi occupo di narrativa italiana per la casa di Tricinaudi, ho pubblicato due romanzi, l'ultimo è Morsi e Dora Bonpiani. Penso che le scuole che insegnano le tecniche di narrazione possano essere utili per conoscere meglio i propri limiti e insieme le possibilità e credo che frequentarle, alcune, possa servire per prendere consapevolezza in qualcosa che viene spesso considerato come sacro o spaventoso per rendersi conto che raccontare storie è qualcosa che ci appartiene da sempre e che quindi non deve spaventarci. Amo le storie che riescono in qualche modo a spostarmi, a darmi l'impressione di trovarmi da qualche altra parte, anche quando si racconta il reale, anche quando si racconta la quotidianità. Un autore che sa fare queste cose in maniera per me sorprendente è Michele Mari, il modo in cui Michele Mari racconta, può raccontarti un giardinetto dove giocano dei bambini osservati dalle madri, si può trasformare in un racconto quasi di paura. Questa per me è una grandezza ed è un esempio.